Stai avendo difficoltà riguardo all'aggiornamento KB50, ovviamente l'aggiornamento KB5044284 che ho installato perfettamente, completamente, senza nessun problema il 10 di ottobre, ma c'è chi ha ancora avuto problemi a scadicare questo aggiornamento della versione Windows 11, versione 24H2, quindi è possibile risolvere il problema arrestando il servizio di Windows Update, ripristinando e poi avviando il servizio e riprovando di nuovo a cercare l'aggiornamento, scaricarlo e installarlo da capo. Quindi in questo caso ti ho lasciato in descrizione dei comandi da inserire sul CMD, ovviamente andiamo un attimo in nuovo documento, quindi crea un documento, fai nuovo e fai documento di testo. In questo caso scrivi qua sopra quello che copia e incolla, quello che ti ho lasciato in descrizione. Da NETSTOPBITS fino a NETSTART, così facendo andrà a scaricare lui gli aggiornamenti, facciamo CTRL V. Una volta incollato così il comando, vai su file, salva con nome. Scrivi qua sopra, fix.bat e lo salvi su desktop. Eccolo qua. Eseguiamo il comando. Facciamo sì e facciamo sì. Se in caso hai scaricato così l'aggiornamento sul tuo sistema, puoi semplicemente eliminare questo download che hai fatto su Windows Update, lo cancelli e poi riprovi di nuovo a cercare l'aggiornamento e lo scarichi di nuovo da capo. Quindi vai direttamente su questo PC, disco locale C, vai su Windows, vai su Software Distribution ed eccolo qua, download. Proverai qui dentro tutti gli aggiornamenti che hai scaricato, li puoi semplicemente cancellare e riprovare a scaricare e vedere se puoi installare così questo aggiornamento. Chiudiamo un attimo qua e ora andiamo direttamente su risoluzioni, problemi, impostazioni, risoluzioni, problemi. Altri strumenti, vai su Windows Update. Facciamo così una diagnostica al nostro sistema per vedere qual è il problema. Se non dovesse funzionare possiamo semplicemente andare sul PowerShell e vi ho lasciato anche in descrizione un altro comando per fare un'analisi, diciamo un ripristino dell'immagine sul disco. Quindi eccolo qua, non riesco a scaricare, installare o disinstallare un aggiornamento. Oppure ho installato un aggiornamento ma l'aggiornamento ha causato un problema e tu puoi schiacciare una di queste due opzioni e proseguire. Quindi lui poi il supporto ti continuerà a fare domande e se non riesci a risolvere puoi semplicemente contattare il supporto tecnico. Quindi sicuramente l'opzione che dovrai cliccare è questa qua. Non riesco a scaricare, installare o disinstallare un aggiornamento. Se non dovesse funzionare andiamo direttamente sul nostro PowerShell, scrivi qua sopra PowerShell, Windows PowerShell e segui come amministratore. Sempre in descrizione ti ho lasciato così quel comando. Quindi eccolo qua che si chiama ThisOnlineCleanupImage. Questo qua, facciamo copia e lo inserisci qua sopra. E poi devi aspettare una verifica di 2-3 minuti. Strumento gestione, manutenzione, immagini, distribuzione. Puoi anche provare a ottimizzare e a riparare il tuo disco andando direttamente su EsploraFile. Vai su questo PC. Disco locale C, tasto destro sopra, mostra attropazione, proprietà. Vai su Strumenti. Puoi controllare se ci sono problemi sul tuo sistema e poi fare un'ottimizzazione. Quindi vai su Controlla. Analizza Unità. Se ci sono problemi farà tutta l'opzione, quindi il servizio degli strumenti e ti darà una mano a risolvere il problema. Se non ci sono, puoi semplicemente ottimizzare il tuo disco facendo solo l'ottimizzazione e la frammentazione Unità. Non sono stati rilevati errori. Puoi anche chiudere questa scheda in acqua e vai su Ottimizza. Unità SSD. Fai Ottimizza. Ottimizzazione è in corso. Ed eccolo qua. Io ovviamente ogni giorno ottimizzo il mio disco. Questo non l'ottimizzo da quattro giorni, faccio Ottimizza e faccio Chiudi. Se in caso il servizio di Windows Update è arrestato, tu puoi attivarlo andando su Servizi. Scendi finaggio fino a trovare Windows Update. Vai su Ripristino. Primo tentativo, riavviare il servizio. Secondo tentativo, riavviare il servizio. Tentativi successivi, riavviare il servizio. Faccio Applico. Se non dovesse andare al primo tentativo, fa tutto automatico e si riavvia al secondo tentativo. Connessione Generale. Tipo di avvio, metto Manuale. Stato il servizio, adesso Windows Update è in esecuzione e funziona perfettamente. Puoi interrompere il servizio. Avviando il servizio. Tipo facendo un riavvio del servizio di Windows Update e fai Applica. Io lo tengo così. Tipo avvio, manuale. È in esecuzione e basta. Faccio OK. E chiudo qua. Operazione di ripristino. Riuscita ed è andata. Operazione completata. E chiudiamo qua. Chiudilo facendo Exit qua sopra. Una volta fatto, riavvia il tuo sistema operativo. Ritorna su Windows Update. E fai la verifica. E vedi se devi fare qualche aggiornamento su Windows Update. Se ti esce. Come ho detto all'inizio, cancella anche gli aggiornamenti sulla cartella Software Distribution e riprovo a verificare gli aggiornamenti, a riscaricarli da capo e vedere se non ti esce più l'errore, l'errore questo qua. 0x873 6b3 per l'installazione dell'aggiornamento KB5044284 Quando ho sempre questi problemi, li risolvo con questi metodi qua. Se hai problemi, commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!